Salve a tutti i giovani padroni, io sono Luke Semonte. E' un momento molto difficile per la grasa, soprattutto per l'inverno. La nostra resistenza al momento se la sa cavare, ma servirà l'aiuto di tutti voi quest'oggi. La vostra forza è molto potente, ma potrei avere qualcuno di sforzare aiutarmi. Vediamo se c'è cuore. Oh, Kinder, perché anche nella nostra galassia, basta la pefana. Su, Luke. Luke, cosa hai per fare tu, eh? Ah, no. 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 Tuppi! senti un terzo nella forza qualcosa non ha fatto mi è arrivato un sasso ma che diamo sta succedendo? si è arrivato un sasso da quello che ho capito loro sono i piccoli Evoca noi ci troviamo su Endro da quello che ho capito sono disposti a delettarci nella nostra battaglia io ogni giovane e neri vi ringrazio quest'oggi per essere venuti insieme ce la faremo mio padre ha catturato una sorella a lei spero davvero di faccia ora vi dimostreremo come due specie molto litigiose potrebbero di loro essere d'accordo che la faccia è secondo che ricordo il giallo ovviamente grazie 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 Grazie.